Il suo sasso ha messo comunque colpito un vaso di terracotta. Il paletto fugge, la sua risposta, è un altro ma non un cugino più grande. Tutto il mio terzo è un minuto e per la rotta il paletto è coperto da coce di vaso. Il paletto è possibile, non è possibile. Una visita di qualità per voi sarà Radio Shababiga 88.8. Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. Scorrendo un attimo la...